Covid-19, contagiato Anselmo Madeddu, presidente dell'Ordine dei Medici di Siracusa. Si allunga la lista dei contagi illustri a Siracusa. Ad essere risultato positivo ai tamponi il presidente dell'Ordine dei Medici di Siracusa, Anselmo Madeddu, riconfermato nella carica per il terzo mandato consecutivo. Il medico riscontrato sintomatico si trovebbe a casa in quarantena, dopo i contagi nella sede ASP di Siracusa di due dipendenti, il direttore generale dell'ASP, Salvatore Lucio Ficar, è arrivata la nota di conferma anche per il presidente Anselmo Madeddu. Il medico ha dichiarato di stare bene e di seguire le sorti dell'Ordine dei Medici. A quanto pare si susseguono voci di altri medici positivi ai tamponi nel distretto sanitario di Siracusa. Intanto sono in corso le procedure secondo quanto previsto dalla normativa per le attività di sanificazione degli uffici dell'Ordine dei Medici con sede in corso gelone.